Per quanto riguarda il comparto florovivaistico, più in genere la gestione di quella che può essere una grande risorsa purtroppo non tenuta in debita considerazione negli ultimi anni nel nostro paese, è proprio la gestione del verde e il ruolo che hanno le imprese florovivaistiche nel nostro territorio, nel nostro paese, in termini di prospettiva futura con un'attenzione particolare che deve essere dedicata all'ambiente. Oggi una corretta gestione del verde pubblico può essere una delle risposte più significative a un tema centrale che noi abbiamo che è l'abbattimento delle polveri sottili, l'abbattimento dei fenomeni inquinanti presenti sul nostro territorio e grazie proprio alla gestione del verde, come dicevo, possiamo avere una risposta importante per quanto riguarda l'emissione di ossigeno di ossigeno che scaturisce proprio dalla gestione delle piante, dalla gestione dei parchi pubblici con nuove piantumazioni, con una visione in termini di risposta per la collettività e per la cittadinanza diversa rispetto a quella che abbiamo avuto negli ultimi anni. Sotto questo punto di vista molto si sta facendo, si sta facendo in termini di interlocuzione con i comuni, con la regione, col governo e oggi ci aspettiamo un segno significativo per quanto riguarda la detraibilità del verde in termini di risposta anche per quanto riguarda i soggetti privati, ma ancora di più in termini di risposta per quanto riguarda le imprese che operano in questo settore con l'istituzione della figura dell'imprenditore a titolo professionale che non significa ulteriore burocrazia, ma significa creare le condizioni per le quali chi opera in questo settore abbia una qualifica che gli dia un riconoscimento di corretta operazione su ciò che è la gestione del verde pubblico una corretta manutenzione delle piante, una corretta potatura delle piante significa un risparmio significativo per quanto riguarda la collettività e i cittadini.